Il detto buono come il pane è sostituito dal caro come il pane. Secondo uno studio di Fiesa Asso Panificatori Confesercenti in Abruzzo, l'aumento del prezzo della farina è salito all'81%. A lanciare l'allarme vince Srao Ruccolo, vicepresidente nazionale Asso Panificatori Confesercenti e Lido Lignini, direttore regionale Confesercenti Abruzzo. Continuiamo a registrare forti aumenti delle farine e dei prodotti energetici. Un trend preoccupante, afferma Davide Trombini, presidente nazionale Asso Panificatori Confesercenti, si rischia di bloccare la partenza dell'economia del nostro settore. Ruccolo si rivolge non solo al governo per l'istituzione di un tavolo, ma anche alla regione Abruzzo. Questi aumenti sono iniziati verso l'inizio di luglio. Fino ad oggi il panificatore ha sopportato questi aumenti vertiginosi. Secondo noi, sicuramente a livello nazionale, ma a livello mondiale c'è una speculazione dietro che non ha pari. Noi già ci siamo passati nel 2008 e siamo preoccupati non solo per noi panificatori. Si vocifica che il grano duro arriverà a quota 100 verso l'inizio dell'anno e forse il grano tenero, la farina tipo 0, arriverà a 70 per Natale. Quindi non è che questo aumento di prezzi si fermerà, oltre a tutte le energie elettriche e quant'altro. E oggi la panificazione vive di quei, di energia elettrica, di metano, di trasporto, di farine. E più vorremmo tenere anche in considerazione l'occupazione del posto per i nostri lavoratori. Avete intenzione di fare delle manifestazioni, di chiedere al governo delle delucidazioni in merito? Noi già a livello nazionale l'abbiamo chiesto di aprire un tavolo al governo, che già c'è un tavolo grano pane. Ma quello che io vorrei invogliare è la regione Abruzzo. Noi abbiamo un'eccellenza, il pane di grano duro, chiamato il pane di secondo e il pane di casereccio. Io chiedo alla regione Abruzzo di aprire un tavolo urgente per valorizzare. Lido Legnini, direttore regionale Confesercetti. Da tenere presente che questo famoso rimbalzo che c'è stato dovuto al lockdown sta provocando un aumento dei prezzi di materie prime che di conseguenza provoca un disagio da parte di tutti gli operatori. Ovviamente l'allarme che si lancia questa mattina è che questo potrebbe, anzi sicuramente, provocherà un aumento dei prezzi anche al consumo finale che ovviamente non è auspicabile in questo momento di riprese e di ripartenza.